Professore Avvocato Maduro, quale sarà il suo intervento presso l'Università del Salento? Il mio intervento sarà sui problemi di governo dello sport, del calcio ma anche di altre attività sportive. Ci sono nel mondo dello sport problemi grave, serie a livello degli strumenti di governo, sia perché abbiamo oggi conoscimento di molti problemi dell'integrità, di corruzione, il rapporto con lo sport, sia perché altri obiettivi che noi attribuiamo alle organizzazioni sportive, come quello per esempio di mantenere l'equilibrio competitivo, il carattere aperto delle competizioni sportive, sono di più in causa. Vi do un esempio, la Champions League, tutti sono preoccupati della Super League, ma la Champions League negli ultimi anni è diventato di più in più un club esclusivo da alcune squadre. 20 anni fa il 50% dei club erano club che venivano di ligue piccole e medie, oggi quasi sempre negli ultimi stagi della Champions League sono sempre gli stessi club. e dobbiamo discutere cosa spiega questi problemi a livello dell'organizzazione dello sport, delle competizioni sportive, sia della protezione dell'integrità della competizione, sia a livello della protezione di questo equilibrio competitivo che anche a livello per esempio delle lighe nazionali è oggi messo in causa. Tutti i studi indicano che l'equilibrio competitivo fra le squadre nei diversi campionati nazionali, nelle diverse lighe nazionali, sia ridotto negli ultimi anni. Ecco, l'Università del Salento attraverso proprio il corso di laurea in diritto e management dello sport forma manager sportivi, quanto è importante questa cosa qui? È moltissimo importante, è anche una delle cose che voglio dire agli studenti, bisogna nelle organizzazioni sportive, bisogna nel lavoro come management sportivo, ma anche nella concezione e nell'organizzazione di queste organizzazioni sportive, sia a livello dei club, sia a livello della federazione, sia a livello delle lighe, bisogna introdurre dei principi di buon governo, dei principi di trasparenza, di responsabilizzazione, di protezione dell'integrità, di prevenzione dei conflitti di interesse, di caratteri veramente democratici e rappresentativi delle organizzazioni sportive. E' molto importante l'organizzazione di corsi e di lauree e di diploma nel management dello sport, nell'organizzazione dello sport, anche per aiutare a capacitare quelli che lavoreranno nello sport con questi principi. Con il professore Melica, direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento, si è appena conclusa una lezione di altissimo spessore del professore Avvocato Maduro. Sì, è stata una lezione sull'autonomia e indipendenza dell'ordinamento sportivo, ma anche i limiti che l'ordinamento sportivo ha nell'esercitare questa autonomia e indipendenza. E' ovvio che, come ci ha detto l'insegna collega, l'ordinamento sportivo convive però all'interno di altri ordinamenti, di istituzioni, quelle statali, ma soprattutto anche quelle europee. E quindi a un certo punto non si può tirare troppo la corda. E' ovvio che lui stesso ci ha raccontato di come la sua esperienza all'interno della FIFA per dieci mesi, che avrebbe dovuto riformare la governance, l'applicazione dei principi del rule of law alla FIFA, alla fine ha dovuto in qualche modo soprassedere, anzi è stato addirittura allontanato. Tutto questo fa capire come effettivamente, soprattutto la circolazione enorme di Danaru che c'è all'interno delle federazioni che organizzano questi campionati, ci ha parlato anche di quello che potrà succedere nella sentenza Superlega, perlomeno ha dato un suo parere, fa sì che ovvio che non si possa prescindere dall'applicazione dei principi del rule of law, del principio di eguaglianza, anche nell'eguaglianza per esempio nella rappresentanza delle donne all'interno delle istituzioni sportive, ma non è solo questo, dal principio di concorrenza, dal principio ovviamente, e poi quando accadono questi casi enormi di corruzione alla fine sono un effetto di tutto quello che succede, cioè è ovvio che le istituzioni europee, suggeriva lui prima ancora che quelle nazionali che magari sono un po' più deboli, perché se la reazione di un organismo sportivo come la FIFA, come l'UEFA, ma come anche gli altri nell'atletica, eccetera, è quella di isolare uno Stato, non si può isolare l'Europa, perché sono 26-27 Stati, quindi queste sanzioni non possono essere emanate, ecco quindi che solo le istituzioni europee, come diceva lui, ma io concordo in pieno, possono risanare, sanare o comunque riformare il sistema nel maggiore rispetto dei principi del rule of law. Incontro che rientra come sempre nel corso di laurea in diritto e managgimento dello sport. Corso di laurea in diritto e managgimento dello sport, oggi i nostri studenti hanno sentito da un'esperienza proprio vissuta come l'applicazione delle regole, le proposte di riforma, da chi le vive, oltre che essere un fantastico, uno straordinario giurista. Ma poi l'incontro si è iscritto pienamente nel modulo Jean Monnet Sport e Rio of Law e credo che sia un po' uno degli incontri, se non l'incontro più importante nel nostro corso.